Ciao a tutti amici e fan di Can Yaman, oggi parleremo di Erkenci Cush, la bellissima serie turca che ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Sapevate che le serie tv turche, conosciute anche come Dizi, hanno conquistato oltre 700 milioni di spettatori in tutto il mondo? Questo numero sbalorditivo la dice lunga sulle loro trame avvincenti, la ricchezza culturale e il fascino universale. Dall'America Latina al Medio Oriente, queste produzioni hanno superato i confini geografici, creando una comunità globale di fan appassionati. La loro profondità emotiva, unita agli elevati valori di produzione, ha ridefinito la narrazione per un pubblico eterogeneo. Nel cuore di questa fiorente industria si trova Erkenci Cush, una serie che ha conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Questa commovente storia segue Sanem, una giovane donna dalla fervida immaginazione, e Khan, un fotografo dallo spirito libero, mentre affrontano le complessità dell'amore e della scoperta di sé. Erkenci Cush ha conquistato rapidamente un fedele seguito sia in Turchia che a livello internazionale. Erkenci Cush inizia con un cambiamento inaspettato nella vita di Sanem Aydin, una giovane aspirante scrittrice. Costretta a lavorare per volere della sua famiglia, incontra per caso Jan Divit, un affascinante e di successo fotografo e uomo d'affari. La loro iniziale rivalità si trasforma gradualmente in un amore appasionato, mentre Sanem cerca di bilanciare i suoi obiettivi di carriera con la sua vita sentimentale. Ogni anno vengono rilasciate decine di nuove serie, ognuna delle quali si sforza di catturare il pubblico con le sue trame uniche e il cast di talento. Questo costante afflusso di nuovi contenuti crea un ambiente dinamico e stimolante in cui le produzioni devono distinguersi. Per avere successo in questo panorama competitivo, la serie TV Erkenci Cush ha dovuto possedere una trama avvincente, personaggi riconoscibili ed elevati valori di produzione. Ha dovuto inoltre entrare in sintonia con il pubblico di riferimento, catturando nel cuore e la mente con ogni episodio. Il successo della serie TV turca è stato misurato dai suoi indici di ascolto, sia a livello nazionale che internazionale. Ascolti elevati si traducono in maggiore popolarità, introiti pubblicitari e riconoscimento globale. Erkenci Cush, come qualsiasi altra produzione, ha dovuto affrontare la sua parte di sfide nel suo percorso verso il riconoscimento. La serie ha dovuto competere con serie TV consolidate e catturare l'attenzione degli spettatori in un mercato saturo. Una delle sfide iniziali è stata quella di affermare la propria identità unica in un mare di commedie romantiche. La serie ci è riuscita approfondendo i percorsi personali dei personaggi, esplorando temi come la scoperta di sé, l'ambizione e la ricerca dei sogni. Un altro ostacolo è stato mantenere lo slancio e l'interesse del pubblico per tutta la sua durata. Gli autori ci sono riusciti introducendo sottotrame avvincenti, colpi di scena inaspettati e mostrando la crescita e l'evoluzione dei personaggi. Una sinfonia di successo, premi e riconoscimenti. La capacità di Erkenci Cush di superare queste sfide e di raggiungere nuove vette è la dimostrazione del duro lavoro e della dedizione di tutto il cast e della troupe. Il successo della serie è stato riconosciuto attraverso numerosi premi e riconoscimenti che ne hanno consolidato il posto come serie tv molto amata. Tra i suoi successi più importanti c'è il prestigioso Golden Butterfly Award come miglior serie tv commedia romantica, a testimonianza della sua popolarità e della bravura dei attori. La serie ha ricevuto riconoscimenti anche per le sue interpretazioni eccezionali, con gli attori protagonisti che hanno ricevuto premi per le loro interpretazioni di Can e Sanem. Can Yaman nel ruolo di Can Divit ha ricevuto il premio di miglior attore per la miglior serie romantica e miglior coppia televisiva insieme a Demet Özdemir nel ruolo di Sanem Aydin. Questi premi non solo celebrano il merito artistico della serie, ma ne evidenziano anche l'impatto culturale, mettendo in mostra il fascino globale delle serie tv turche. Speriamo di rivederli presto insieme in qualche altra serie televisiva. Grazie e presto.